I numeri sono da economia post bellica, anche se la guerra che si sta combattendo in questi mesi è soprattutto sanitaria. La pandemia da coronavirus ha di fatto messo in ginocchio l'economia pugliese e quella delle province di Bari e Bat non fa eccezione. Lo illustra senza fronzoli Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della CISL per Bari e Bat, nel corso del Consiglio Generale convocato in videoconferenza. C'è un vulcano che cova sotto la cenere in questo anno disgraziato, con la disoccupazione giovanile che tocca punte del 40% ed una prospettiva per il nuovo anno tutt'altro che confortante. C'è un tornado che potrebbe spazzare via poco più di 10.000 aziende di Bari e provincia. Sono ad un passo dal baratro, dichiara senza mezzi termini Boccuzzi. Più di 3.000 hanno in corso una procedura concorsuale, altre 7.000 sono in scioglimento o in liquidazione. Dal momento che il totale delle imprese baresi registrate alla Camera di Commercio sono, nello stesso periodo del 2019, 114.711, ecco che allora quasi un'azienda su 10 è al passo dal baratro, spiega il segretario generale della CISL. E se l'emergenza economica resta quasi sullo sfondo con tutta la sua drammaticità, quella sanitaria non è da meno ed è ben visibile, spiega Boccuzzi. In questo caso, a giudizio della CISL, le principali responsabilità vanno ascritte al Governo regionale, soprattutto nella gestione tra la prima e la seconda ondata pandemica. Si è passati dalla irresponsabile chiamata al Covid-free per riempire discoteche e sagre estive all'attuale amplificazione degli effetti nefasti di questa pandemia. E in Puglia, questa seconda ondata, a giudizio del segretario di Bari e della BAT, si sarebbe potuta attenuare se fossimo stati più previdenti. Invece la Puglia fa registrare uno dei tassi di mortalità più alti da Covid e vede il sistema sanitario in affanno per la cura delle altre patologie. La CISL, conclude Boccuzzi, è pronta a confrontarsi con la regione e le ASL di Bari e BAT. Ma se nel primo caso l'interlocuzione è partita due giorni fa, dalla ASL BAT si attende ancora la convocazione per un incontro.